Quali fattori possono causare un'epidemia di parotite? L'epidemia di parotite è causata da una combinazione di due fattori, la natura della malattia e la mancanza di immunizzazione. La parotite è molto contagiosa e può facilmente diffondersi da persona a persona. Se un'area ha una grande popolazione di persone non vaccinate, è più probabile che si verifichi un'epidemia di parotite. Le epidemie si verificano normalmente nei bambini sotto i 12 anni. La parotite comunemente provoca gonfiore nelle ghiandole salivari, ma in rari casi è noto che colpisce anche il sistema nervoso centrale, il pancreas e i testicoli. Coloro che sono infetti da parotite si consigliano di bere liquidi e di applicare impacchi caldi o freddi alle ghiandole gonfie. Il virus è spesso accompagnato da febbre e una persona infetta si ammala per un massimo di 10 giorni. Un semplice esame della zona gonfia di solito è tutto un medico ha bisogno di diagnosticare la parotite, ma un esame del sangue può essere eseguito per escludere altre malattie. Come una malattia virale, la parotite è altamente contagiosa. Si diffonde in liquidi umidi, come l'influenza o il raffreddore, e una persona infetta da parotite può passarla a un'altra persona starnutendo o tossendo su quella persona. La malattia è più contagiosa durante la prima settimana di sintomi, ma un individuo infetto non avrà sintomi per circa 16 giorni. A volte i sintomi non compaiono per quasi un mese. Anche prima che una persona inizia a sentirsi male, è contagiosa e potrebbe diffondere la malattia agli altri. Il vaccino contro la parotite fu introdotto negli anni 60. È il miglior metodo per prevenire l'epidemia di parotite. Sebbene le persone che hanno avuto la parotite siano immuni da una parotite, il vaccino è un metodo di immunizzazione meno doloroso. Il vaccino contro la parotite deve essere somministrato due volte per essere efficace. La maggior parte delle persone riceve il vaccino quando ha un anno e di nuovo tra i 4 e i 6 anni. Nei primi anni 2000, si ipotizzò che il vaccino contro la parotite fosse collegato all'autismo e molti genitori si rifiutarono di vaccinare i loro bambini con l'immunizzazione di parotite, morbillo e rosolia, morbillo, parotite e rosolia. Negli anni seguenti, c'è stato un aumento nel numero di casi di epidemie di parotite. Ulteriori ricerche non hanno trovato alcun collegamento conclusivo tra il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia e l'autismo.